Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Le notizie in primo piano in questa edizione del Telegiornale Anziano trovato morto nelle acque del Canale Albani L'ipotesi è quella del suicidio 16 persone contagiate dal virus nelle ultime 24 ore Sono casi di rientro dall'estero e non solo Intanto a Rosciano ha effettuato il tampone a 70 persone collegate ai 6 giovani rientrati da una vacanza in Croazia Protestano gli ambulanti del mercato Affano Sfrattati dal centro a causa di alcuni lavori in corso Matteotti, interviene l'assessore Troveremo una soluzione La variante Digimarra passa anche in consiglio comunale I 20 milioni di euro della regione serviranno per prolungare l'interquartieri fino alla statale 16 Prende il via giovedì sera e lucevan le stelle La rassegna musicale che andrà in scena all'anfiteatro Reichdat sul lungomare di Sassogna a Fano Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Il telegiornale di questa sera si apre con la tragedia che si è consumata a piagge nel comune di Terre Roveresche Un anziano è stato trovato morto lungo il Canale Albani L'ipotesi è quella del suicidio Bruno Gentili, 74 anni, ha portato con sé le ragioni del suo gesto Forse è meglio che me ne vado, aveva detto nei giorni scorsi E oggi lo avrebbe fatto in silenzio, senza salutare nessuno, senza lasciare un biglietto d'addio Una tragedia che si è consumata questa mattina a piagge nel comune di Terre Roveresche Intorno alle 10.30 la badante polacca, rimasta con lui fino a 5 minuti prima, non l'ha più visto e ha iniziato a cercarlo Anche nel bar poco distante Poi, come racconta un vicino di casa, la donna avrebbe visto il corpo riverso nelle acque del Canale Albani Sono subito accorsi quattro uomini, tra cui il marito della nipote, che hanno trascinato il corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare Gli a fianco c'erano le ciabatte che l'anziano avrebbe tolto prima di buttarsi e il suo cappello ben appoggiato a una ringhiera Sono sconvolto, ha affermato il vicino di casa, che ha aiutato gli amici a recuperare il corpo Bruno, ci hanno riferito, non era sposato e non aveva figli Ma anche se era assistito da una donna, era lucido, capace di intendere e volere Nell'ultimo periodo, però, era caduto in depressione Questa mattina il marito della nipote avrebbe dovuto accompagnarlo a fare un attack, ma all'ospedale non c'è mai arrivato Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri di Saltara, guidati dal comandante Antonello Pannaccio Sulla salma verrà eseguita un'ispezione cadaverica, ma l'ipotesi sulla quale ora indagano i carabinieri della stazione di terre roveresche è quella del suicidio Ancora cronaca, un incidente tra un ciclista e un'autovettura sulla statale 16 Il tamponamento è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina I due viaggiavano in direzione Fano, il ciclamatore non si è accorto che l'auto davanti stava rallentando E che si era spostata al centro della strada per svoltare a sinistra L'impatto è stato inevitabile e violento, tanto che l'unotto posteriore dell'auto, una Mercedes, è andato in Frantumi Sul posto è intervenuta la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il ciclista E lo hanno trasportato al pronto soccorso di Pesaro, mentre il conducente della vettura è rimasto illeso A Fano invece in viale driatico si è verificato un altro tamponamento di lieve entità Intorno alle 12.50 tra un'autovettura e una moto La vettura in questo caso stava uscendo dall'area di parcheggio vicino all'anfiteatro Rastatt Il conducente ha mancato la precedenza e ha urtato lievemente una moto in transito sul viale Sul posto non è intervenuto il 118 in quanto entrambi i conducenti sono rimasti inlesi Questa mattina al Colma di Rosciano a Fano sono stati eseguiti i tamponi a 70 persone Si tratta di bambini che frequentano un centro estivo e amici e familiari di persone risultate positive al Covid dopo un viaggio in Croazia Nelle marche proseguono anche i tamponi nel percorso nuove diagnosi Nelle ultime 24 ore sono state trovate positive 16 persone di cui 3 nella provincia di Pesaro Urbino Drive point al Colma di Rosciano a Fano per sottoporre a tampone una settantina di cittadini della provincia pesarese Tra loro ci sono amici e parenti stretti di alcuni ragazzi che al rientro da un viaggio in Croazia sono risultati positivi al coronavirus Si tratterebbe di giovani residenti a Fano, Pesaro e Montecchio Dopo un'indagine epidemiologica dell'Asur che ha individuato e chiamato i contatti stretti Questa mattina si è svolto il monitoraggio straordinario per prevenire e in caso spegnere sul nascere un eventuale nuovo focolaio Tutti in fila senza scendere dall'auto Sì abbiamo fatto questo intervento su strada perché stiamo facendo un'intensa attività di tracciamento dei contatti Quindi noi riusciamo a fare tutto con le squadre domiciliari e dobbiamo ricorrere a questi drive Per cercare appunto di sottoporre a test diagnostico la maggior parte dei contatti che identifichiamo Ci sono anche bambini e anziani in quali fasce di età? Sì abbiamo identificato anche dei bambini che erano dei contatti di un centro estivo Abbiamo classificato ovviamente i contatti con il sistema dei cerchi concentrici come si fa in genere nelle indagini epidemiologiche I contatti stretti li abbiamo invitati a fare il tampone per la diagnostica molecolare Si conferma che ci sono anche familiari di persone rientrate da una vacanza? Sì sì ci sono dei familiari di giovani che sono rientrati da vacanze all'estero Questo è una cosa abbastanza normale perché noi stiamo assistendo a una pandemia di portata mondiale Quindi è normale che gli spostamenti e i viaggi comportano un certo rischio di acquisire le infezioni E di conseguenza poi di sviluppare dei focolai una volta che la gente è rientrata Però questa è una situazione diciamo ai limiti parafisiologica considerando la riapertura e il periodo estivo Il Drive Point proseguirà nei prossimi due mercoledì sia per il percorso guariti Sia per sottoporre a tampone altre persone entrate a contatto con i viaggiatori rientrate in Italia E risultati positivi al virus Intanto nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 16 nuovi casi nelle Marche Sulla base di oltre 1000 tamponi eseguiti Di questi quasi 600 sono riferiti al percorso nuove diagnosi e più di 400 al percorso guariti 5 i casi in provincia di Ancona, 7 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in quella di Pesor Urbino E poi un residente con domicilio fuori in regione I contagi, fa sapere il Gores, comprendono rientri dall'estero soggetti sintomatici, asintomatici e screening per inserimento lavorativo Il numero di degenti invece cala da 11 a 10, tutti i reparti non intensivi Mentre sono in aumento i positivi in isolamento domiciliare ad oggi 157 Le persone isolate in casa per contatti con contagiati scendono a 1390 Tra queste 47 sono sanitari Anche oggi, infine, non si registrano decessi E il Comune di Fano ha presentato uno studio sulla qualità dell'aria nella zona di Bellocchi di Fano E dal documento sono emerse alcune criticità Ma soprattutto resta ancora da individuare la fonte da cui scaturiscono le polveri sottili Si chiama Modelli numerici per lo studio della qualità dell'aria e sistema informativo territoriale delle matrici ambientali della zona industriale di Bellocchi di Fano Il progetto che il Comune ha intrapreso con la partecipazione dell'Università di Urbino Carlo Bo Gli obiettivi del progetto sono stati la raccolta, riletture e elaborazione dei dati sulle tre componenti ambientali Aria, acqua e suolo della zona industriale di Bellocchi di Fano Stima della qualità dell'aria Mediante l'impegno di modelli numerici e infine realizzazione di carte tematiche in ambiente Il progetto finanziato interamente dal Comune con un costo di 73 mila euro Si è concluso a luglio di quest'anno I risultati definiscono una situazione articolata e non uniforme della zona industriale Che risulta nel complesso non compromessa sotto il profilo ambientale Nonostante la presenza di alcuni elementi di criticità In particolare la matrice dell'aria e le polveri sottili In sintesi lo studio osserva che la matrice dell'aria della centralina di Bellocchi Posizionata in via Filippini Risulta avere una concentrazione superiore di polveri sottili Rispetto alla centralina di via Montegrappa di Fano Prendendo in esame il periodo giugno-agosto Sono stati riscontrati in via Filippini Circa 80 superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi Contro i 34 superamenti di via Montegrappa Costatando che la stazione di Bellocchi Registra in media il 30% più elevato rispetto a via Montegrappa Dal quadro di inquinamento riscontrato i tecnici hanno realizzato un inventario delle emissioni Suddivise in bicolari attraverso il traffico e industriali attraverso invece la consultazione Dei titoli autorizzativi delle imprese operanti nell'area industriale L'ipotesi che appare più realistica è che in prossimità dell'attuale centralina di monitoraggio dell'area industriale Ci sono una o più fonti emissive non note al rilascio delle autorizzazioni delle emissioni Pertanto gli enti addetti si fanno carico di investigare la natura e la reale potenza emissiva delle fonti di inquinamento Sconosciute che verrà eseguita circa metà settembre Per quanto riguarda gli altri inquinanti di cui si dispone la rilevazione non si evidenzano criticità Per quanto riguarda la matrice, suolo ed acqua Evidenzano criticità elevate, concentrazioni di nitrati nelle acque di Chiaruccia, Papiria 2 e Bellocchi Nuovo Concentrazioni di metalli nelle acque dei pozzi di Chiaruccia, Piccola, Industria e Bellocchi Elevata presenza di solventi utilizzati per i lavaggi a secco nelle acque di Chiaruccia, Papiria 2 e Bellocchi Nuovo I campioni di suolo non evidenziano particolari criticità E questa mattina abbiamo dato voce ad alcuni ambulanti che protestano contro il Comune di Fano Per lo spostamento delle loro bancarelle in una zona a dir loro poco frequentata Questo spostamento si è reso necessario per dare spazio a dei lavori che sono in programma in corso Matteotti Intervenuto anche l'assessore Etienne Lucarelli che ha detto troveremo per loro una soluzione Chiediamo all'assessore di prendere la giusta soluzione adatta a noi Visto il periodo di crisi dopo il Covid sarebbe proprio un'ulteriore stangata Sono preoccupati gli ambulanti del mercato cittadino venuti a conoscenza di un cambiamento imminente A causa dei lavori da eseguire sul tetto di una palazzina in corso Matteotti all'altezza della Mimo Diverse bancarelle dovranno essere spostate Dove la decisione definitiva non è ancora stata presa ma le proposte del Comune le ritengono penalizzanti Vorrò restaurare questo palazzo e mettere un'impalcatura con una profondità poco più di un metro Però per questa impalcatura ci hanno proposto di spostarsi in una piazza dopo la pescheria Che sarebbe come stare a casa e noi abbiamo proposto altre soluzioni che andavano bene anche all'ufficio commercio Ad esempio di stare arretrati di due metri e mezzo con un banco di pochissima profondità O salire sul marciapiede Però l'assessore sembra non vare bene e ci voglia spostare dall'altra parte Cosa alla quale ci opporremo in tutti i modi Un'altra proposta che abbiamo avanzato, prosegue Simone, è stata quella di spostarci all'altezza di Gabuccini Sempre lungo il corso principale della città Ma anche lì, ci racconta, sembra che non vada bene Invece Piazza Veduti per gli ambulanti è fuori discussione Perché secondo voi Piazza Veduti non risolverebbe questo problema? Perché andare lì è come stare a casa Stai a casa e risparmi i soldi della benzina Non ci sarebbe passaggio? Non si fa niente, lo dico per esperienza perché io ho avuto una spunta a Fano E conosco tutti i posti sia della piazza che del corso Sa già per quanto tempo dovreste subire? Sembra che sia un periodo di quattro mesi Quindi fossero state due settimane e il sacrificio si faceva Ma quattro mesi non si può Quindi siete tutti d'accordo su questo? Tutti d'accordo e sul piede di guerra Visto l'appello lanciato all'assessore alle attività economiche produttive Etienne Lucarelli Dopo l'intervista lo abbiamo contattato Nel giro di dieci minuti è arrivato sul posto Per ascoltare le richieste degli ambulanti Quale situazione si può prospettare? Ma sicuramente dobbiamo concedere soprattutto al privato Che ha necessità di fare i lavori nella sua casa Di poterli fare, di mettere tra l'altro in sicurezza la casa Che ha dei problemi al tetto Quindi c'è una riparazione da fare In tutto questo sappiamo che oggi è preponderante Rispetto di tutte le normative Covid e le distanze Sappiamo anche che una zona come questa dei giardini amiani Una zona pregiata Sappiamo che i giardini non possono essere utilizzati Per fare questo tipo di attività E quindi il confronto è sempre opportuno E lo è stato anche questa volta Perché stiamo cercando di capire Se potergli far rimanere nello spazio Con il rispetto delle norme E quindi stringendo di parecchio il loro banco Oppure dovremo trovare un'altra zona della città Per far sì che possono comunque continuare a lavorare Siamo stati i primi a far partire il mercato nella città Quindi ci teniamo a far sì che tutti possano lavorare Ma ovviamente il rispetto delle regole Il rispetto della città rimane la cosa principale Ieri sera il Consiglio Comunale di Fano Ha approvato la delibera Per la cosiddetta variante di Gimarra Dunque i 20 milioni della regione Serviranno per realizzare questa nuova strada Che altro non è che il prolungamento dell'Interquartieri Che sbucherà poi sulla Statale 16 I 20 milioni di euro della regione Saranno investiti nella variante Gimarra E quanto deciso ieri Durante la seduta del Consiglio Comunale di Fano La protesta dei residenti del quartiere Non è servita a impedire la decisione Di creare una strada alternativa alla Statale 16 Prolungando l'Interquartieri Che dalla rotatoria di Via Aldomoro Si collegherà sull'Adriatica Poco prima dell'Hotel Riviera La delibera discussa e votata in Consiglio Comunale Fa presente che non è priva di elementi di criticità Ma risulta secondo il Consiglio La migliore tra le quattro ipotesi Oggetto dello studio tecnico-economico Redatto dal dirigente dei lavori pubblici La soluzione di Gimarra Attraversa varie aree ancora verdi della città Incontra nel suo percorso Una serie di ville di pregio Come riportato nello studio di fattibilità Questa decisione è a seguito della convenzione Che abbiamo deciso di stipulare il 21 luglio E devo dire che c'è stata un'accelerazione Dovuta dalla regione Marchi Che ci ha messo un po' in imbarazzo Perché è una scelta che dovevamo prendere Avremmo voluto confrontarci meglio e di più con i cittadini Ne siamo consapevoli Cercheremo di recuperare dopo Perché crediamo che comunque Ci siano tutti i margini del confronto con le persone L'infrastruttura che sorgerà Dovrà avere requisiti minimi Di compatibilità Dovrà essere sostenibile E soprattutto dovremmo attivare anche un contatto costante Con la sovrintendenza Al paesaggio e ai beni monumentali In questo senso l'infrastruttura Che verrà realizzata lontano dall'abitato di Gimarra Passa in una galleria Anzi saranno due le gallerie Una naturale e una artificiale E metteremo cura e attenzione Dal punto di vista progettuale Per cercare di fare in modo di farla scomparire nel paesaggio Anche con una schermatura Non solo facendola passare in trincea Più bassa possibile Usando le gallerie Ma anche usando quelle schermature ambientali Che si possono avere Per la città è importante e utile Perché permetterà di sgravare il traffico Di Viale Primo Maggio Viale Romagna Viale Vuozzi In parte via Roma E tante vie come Girolamo da Fano Via Trave Che in questo momento sono Piene di auto E soprattutto nell'ora di punta Viale Romagna Conta 700 veicoli ora In entrambi i sensi di marcia Che sono livelli di traffico insostenibili per quella strada Inoltre la strada avrà una pista ciclabile Fino al Carmine E dalla Trave E non ci sono soltanto i 20 milioni Della regione per la strada Di cui vi abbiamo appena parlato Ci sono anche 6 milioni di euro In arrivo per la ricostruzione Dell'ex scuola Carducci Siamo sempre a Fano Ad annunciare questa buona notizia Per l'edificio Che ospite il liceo Nolfi E il vice presidente Del consiglio regionale Renato Claudio Minardi A distanza di un anno Dalla chiusura dell'ex Carducci A causa di problemi statici Arrivano buone notizie Per la struttura Che ospitava il liceo Nolfi Afano A darne l'annuncio E il vice presidente Dell'assemblea legislativa Delle Marche Renato Claudio Minardi Che comunica L'arrivo di 6 milioni di euro Per l'edificio scolastico A farsi carico Della progettazione E ricostruzione Dell'immobile Saralinail Il problema del Carducci È un problema Che è capitato Alla comunità di Fano E non solo fanese Lo scorso mese di agosto Con l'improvvisa chiusura E l'impossibilità Addirittura Di recuperare l'edificio Neanche con dei lavori Di messa in sicurezza Quindi Carducci Sappiamo che dovrà essere Demolito Ci siamo messi subito All'opera Al lavoro Per cercare di trovare Le risorse necessarie Per la ricostruzione Del Carducci Ovviamente per Dare garanzia Alla scuola Agli studenti Per dare una scuola sicura Ma anche per evitare Lo spostamento Degli studenti Degli insegnanti Nella città In altri edifici Abbiamo verificato Diverse soluzioni Spiega Minardi Che ha seguito La vicenda sin dall'inizio Tra queste La graduatoria Sull'edilizia scolastica Ma i tempi Sarebbero stati Troppo lunghi Visto che la programmazione Riguarda il triennio 2021-2023 È stata vagliata Poi anche La graduatoria Riferita alle quattro Regioni colpite Dal sisma Ma non c'è stato Un incremento di risorse Da parte dello Stato Ci siamo dati da fare Invece per Una cifra Residua Che erano I fondi Inail Che passano Attraverso la regione Per l'edilizia scolastica Abbiamo rifatto Una procedura E la provincia Di Pesaro Urbino Si vedrà In queste ore Assegnati I 6 milioni Di euro Che servono Per la ricostruzione Del Carducci Con L'obiettivo Che l'Inail Progetta Realizza la scuola E la consegna A chiave in mano Quindi di fatto L'Inail Con i 6 milioni Che avrà Disponibili Potrà realizzare La nuova scuola Del Carducci Su un'area Disponibile Che dovrà essere Assegnata In accordo Fra provincia E comune E l'Inail Consegnerà Alla scuola A chiave in mano Facendosi carico Anche delle Straordinarie Manutenzioni Anche delle Ordinarie In cambio Ovviamente Di un canone Di locazione E prende il via Domani E lucevan Le stelle La rassegna Musicale Che animerà Le serate All'Anfiteatro Rastat Sul lungomare Di Sassonia A Fano Abbiamo organizzato Una 10 giorni Di eventi All'Anfiteatro Rastat Un 10 giorni Di eventi Che si chiamerà E lucevan Le stelle Saranno In questi 10 giorni Ci saranno Degli spettacoli Dove il mare lucica Un omaggio A Lucio Dalla Un omaggio A Morricone Con l'orchestra Sinfonica Di Pesaro Un omaggio A Michael Jackson Poi avremo Due serate Il 16 e il 17 Con la Pandolfaccia Delle serate medievali Per passare Al 19 Una nota Tra le stelle Organizzata Da una scuola Tra le note E un'ultima serata The best of Che sarà Il giorno 19 E oltretutto Questo è il programma Iniziale Che avevamo fatto Si aggiunge Al giorno 22 Sabato 22 Uno spettacolo Del Gaff Ecco ci teniamo Molto perché Diciamo Uno spettacolo Divertente Che è una compagnia A cui teniamo Molto Il titolo Dell'evento Sarà Se ne la faremo E la fare romolo Quindi già il titolo No Prennuncia Un bel divertimento Quindi Vi chiedo Di acquistare i titoli Su live ticket Saranno disponibili Su live ticket Oppure Li potete acquistare Direttamente All'edicola Dietro la farmacia Vannucci I biglietti Saranno acquistabili Anche in loco Dalle ore 8 Ci sarà Ci sarà Una cassa Per poterli acquistare Però noi Ecco Speriamo Di venderli Tutti online E quindi Datevi da fare Per acquistarli Perché già Le serate Cominciano a riempirsi E quindi C'è il rischio Che arrivate lì E i biglietti Non li trovate Un'altra cosa Che vi raccomando Siccome le serate Saranno tutte In sicurezza Ci sarà un numero Massimo di spettatori 360 E quindi Non vorremmo Che alcuni Si presentassero Con i figli Senza biglietto E I figli Non possono entrare Ecco Vi chiediamo Di fare Anche dei ridotti Per i vostri bambini I prezzi Sono popolari Perché vanno Da 2 euro A 10 euro I ridotti Costano 1 euro Quindi ecco Cercate di aiutarci In questa cosa Perché noi Abbiamo cercato Di fare Tutto in sicurezza Rispettando Tutte le normative Se ci date Una mano Anche a voi Sarebbe Ecco È un bene per tutti Vi aspettiamo Quindi dal 13 Al 22 Per questi spettacoli All'Anfiteatro Rasta Come dicevo Acquistate i biglietti Sull'Ive Ticket Buon divertimento a tutti E questo era L'ultimo servizio Grazie per aver scelto L'informazione locale Di Fano TV L'appuntamento È per domani mattina Alle 7 Con la resegna stampa Arrivederci L'informazione locale L'informazione locale L'informazione locale